Sui vaccini la Lombardia ha già attivato un modello attento alle esigenze delle famiglie, rispettoso delle indicazioni contenute nella legge. L'assessore al welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera risponde così alla richiesta del Presidente della Terza Commissione Salute Fabio Lorolfi di adottare il modello della Regione Liguria per attuare il decreto Lorenzini sull'obbligatorietà dei vaccini. Nessun bambino rimarrà tagliato fuori da scuola a settembre di Chiara Gallera nella logica di un confronto costruttivo con le famiglie. Sui siti web di ATS e ASST Lombarde sono presenti informazioni per la tipologia di documentazione richiesta per legge. Sempre sui portali è disponibile il modello di autocertificazione che i genitori dei bambini che frequentano asili nido e scuole dell'infanzia dovranno presentare entro il 10 settembre e quelli delle scuole dell'obbligo entro il 31 ottobre. Per chi non è in regola basta fornire la richiesta di appuntamento con i centri vaccinali delle rispettive ASST. Inoltre dal prossimo gennaio sarà possibile scaricare in tempo con la scadenza fissata per legge il 10 marzo il certificato vaccinale che avrà valore legale direttamente dal fascicolo sanitario elettronico attraverso la propria tessera sanitaria o quella dei propri figli, evitando quindi code e disagi. Efficace, conclude Gallera, si è inoltre rivelato l'invio ai pediatri dell'elenco dei nominativi dei loro assistiti non vaccinati affinché avviassero un dialogo con le famiglie. Iniziativa che in un solo mese ci ha permesso di recuperare quasi il 10% dei bambini non vaccinati che andrà avanti grazie alla segnalazione sistematica che le ATS invieranno ai pediatri di famiglia in caso i loro assistiti non rispondano alle chiamate vaccinali. Grazie.